Anche come fratello di fede, però si trova d'accordo anche su altre posizioni, cioè che significa l'arco del fede, perché si è sempre volutamente fatto posizione anche su questo, cioè fedeare il loro senso e credente. Se invece è fede e credente non sei l'arco, alcuni la fanno questa posizione, però per noi la recita è un valore, è un valore di tutto costruzionale in Italia, non stiamo parlando sull'equazione salente e facile. C'è stato un valore di scuola, l'amica, e invece non c'è. Il nostro bel riso, del nostro bel momento, che vedete, molto bel, molto interessante, molto risultato, è il bel stato e questo non possiamo identificare. Invece è una vita che il nostro Stato ha tagliato per la scuola privata, per la scuola paritata, per la scuola paritata, per la scuola paritata, per la scuola paritata, per la scuola paritata. C'è poco da fare, anche gli insegnanti che li so, e io per te che rispetto sono dei lavoratori, assolutamente, però non so strano risposte agli insegnanti di altre materie, ritorno anche al problema dell'alternativa, ritorno al problema della nostra proposta, larga, di insegnamento per dire che giovi nella donna. In questo momento, in questo momento, lasciate, come questo, soprattutto, un tipico lavoro, ricordo, un grado di approcciamento, a una persona che ha lavorato per anni su questo problema, e che è una ritorno che fa il risultato sul problema dell'insegnamento delle 20 giorni, e l'ultima proposta ha fatto, certo? E' un'ultima proposta, era un problema quello che si può dire, perché il segnamento delle 20 giorni, così ci si trovava il nostro futuro, lo scusate di questo, diciamo, piccolo, 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 piccolo. Ciao. Grazie, Nicoletta. Continuiamo qui nella prima parte del mondo di lavoro, vi invito a ritornare i ministri, che è per la tavola profonda, la sua raccolta, prima parte dei posti, i furi posti che si è avverranno, che per dire che va di quello che si può fare. Ci saluto e ringrazio tutti quanti sono stati messi oggi, e lascio la parola, per tutti i miei amici, le nostre spiegazioni, gli amici, del nostro ultimo problema di lavoro, su questo sogno d'arriza della scuola. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.